Buongiorno leggine, buongiorno leggini oggi per questo video tutorial scartiamo proprio insieme, non l'ho neanche aperto, questo nuovo mazzo di carte sono i pensieri del cuore di Luisei medita su una carta diversa ogni mattina e infatti voglio usare questo bel mazzo di carte per il lunedì il lunedì noi avevamo la frase di Luisei, io adoro Lulu, lo sapete e quindi mi sembra, secondo me è una maestra ascesa ormai e quindi mi piace condividere con voi i suoi meravigliosi lavori così positivi e pieni di luce e per tanto tempo, tante settimane abbiamo usato le sue citazioni adesso invece volevo iniziare ad usare queste nuove carte sono 64, quindi insomma non poche ora ce le vediamo insieme allora, come al solito le carte di Luisei non hanno il libretto di accompagno perché? perché sono carte da meditazione, quindi hanno già tutto nella carta c'è poi una carta che dà il benvenuto e dice cari amici, queste carte contengono affermazioni potenti e meditazioni spirituali per aiutarti a vivere le esperienze quotidiane con amore e serenità lascia qualche carta in giro per casa in macchina e in ufficio dove le avrai spesso sott'occhio condividi la gioia che queste carte esprimono donandole alcune ad amici e familiari merita su una carta diversa ogni mattina e infondi la tua energia positiva nella tua giornata beh, allora io direi di usarle così iniziamo subito quindi allora, questa è la scatolina è morbida di carta il prezzo è 19 euro ma sotto nell'info box trovi il link all'acquisto ad un prezzo scontato poi le carte sono queste, sono 64 andiamo un po' veloci sennò tutte quante diventano tante comunque il concetto è questo sono già perfetto così bellissimo e poi dietro sono già perfetto così qui e ora sono abbastanza sono tutt'uno con la vita quindi davanti una frase affermazione più diretta e dietro anche una spiegazione creo per me meravigliose nuove convinzioni andiamo un po' veloci tanto poi lo usiamo sulla pagina, ok? tutti i cambiamenti mi riescono facilmente poi sono al passo successivo verso la guarigione tanto poi la usiamo insieme fluisco con la vita bene, oggi per me il messaggio è di fluire di fluire, di fluire quindi questa carta mi arriva come una conferma e poi guarisco me stesso su tutti i livelli lascio che il mio intero essere vibri di luce bella la mia casa è un porto di pace i miei guadagni sono in costante aumento ho un potenziale illimitato imparo qualcosa di nuovo ogni giorno bellissimo il mio amore è illimitato merito amore ok sono connesso con tutta la vita confido che la vita si prenda cura di me sono disposta a imparare cose nuove allora mi raccomando quindi il lunedì mattina sulla pagina facebook delle leggi della magia troverete questa carta motivazionale no? che fare ora? innanzitutto purificarle un pochino perché? perché sono carte di luce queste però si sente un po' la creazione no? l'essere passati in un'industria l'essere state stampate e tutto hanno un'energia un po' così allora io ho scelto questi incensi sono degli incensi nuovi che hanno dentro i fiori di Bach quindi hanno le vibrazioni floreali dentro e ho scelto questo sostegno mi piaceva e anche questo lo usiamo adesso insieme e sotto ti metto il link se vuoi darci un'occhiata allora guarda che carina la scatolina dentro ci sta il foglietto di spiegazioni la scatolina è tutta bella quindi anche facile da riciclare tutta in carta sono 12 bastoncini e sono molto buoni come ti dicevo hanno vari scopi e questo è di sostegno una pausa ricreativa che aiuta la resistenza allo stress e per ritrovare nuove energie che è quello adatto per la carta quindi prendiamo un incenso sono delicati per chi non gradisse troppo gli incensi forti accendiamo il nostro incenso e iniziamo a dare una pulitina dopo peschiamo la carta e ci facciamo anche la meditazione insieme buoni sono molto delicati e di fragranza quindi non disturbano non sono eccessivi allora la potreste fare una ad una la purificazione se sentite questa necessità io la sto facendo tutta insieme per comodità poi come sapete prendo il mio corta incensi ci metto l'incenso quindi così e poi ci vado a mettere le carte qua ok? lo faccio dopo perché adesso questa carta a noi ci serve quindi diamo una prima mischiatina sono carte sempre che non si mischiano come quelle da briscola se non le rovinate quindi apritele un po' e fatele cadere dentro in modo delicato perché sennò si rovinano ok poi chiudete gli occhi le aprite a ventaglio questo è un modo potete farne mille io uso questo sennò potete anche mescolarle finché non sentite stop e poi ne prendete la prima scegliete voi io faccio a ventaglio in questo periodo perché mi va così anche su buongiorno positività di instagram la mattina quando pesco la carta con voi e faccio questo metodo prendiamo questa ma ci meditiamo anche sopra come ci consiglia Lulu allora sono connesso con tutta la vita sono spirito luce energia vibrazione colore e amore sono connesso con ogni persona sul pianeta e con tutta la vita allora come possiamo fare molto semplice deve essere un lavoro breve perché magari la mattina non abbiamo tanto tempo quindi peschiamo una carta sono connesso con tutta la vita chiudo gli occhi e inizio a fare mia questa affermazione quindi inizio a ripeterla sono connesso mentalmente io lo faccio ad alta voce così mi sentite però lo potete fare potete poggiare una mano sul cuore che è appunto il centro del chakra del cuore e iniziare a farla vibrare dentro di voi sono connessa con tutta la vita iniziate a percepire un'energia circolare che inizia a passare a voi da voi a tutti i membri della casa quindi al vostro partner ai vostri figli ai vostri genitori ai vostri animali agli oggetti della casa anche iniziate a sentirvi in sintonia in connessione con tutto quello che vi circonda in questo momento quindi con me con le altre leggine e le giri siamo tutti interconnessi e siamo spirito quindi iniziamo a percepire la nostra energia anteriore siamo luce iniziamo a vibrare luminosi a sentirci sempre più luminosi e siamo energia e quindi iniziamo a sentire vitalità che scorre in noi e che aumenta e che dà la carica e sentiamo che dentro di noi siamo brillanti e luminosi siamo vibrazione quindi iniziamo a emanare questa luce alle persone intorno a noi nel fisico quindi nella nostra casa ma anche nell'etere quindi da leggina a leggina da me a te sono colore vedete se la vostra energia ha un colore in particolare qualunque colore appaia è giusto non c'è un colore giusto è un colore sbagliato e poi amore quindi questo interscambio deve essere fatto con amore amore cosmico amore universale amore disinteressato l'acape greco e lasciamo che fluisca ok iniziamo a sentirci connessi con ogni persona sul pianeta e con tutta la vita dice la carta quindi iniziamo a sentire che siamo connessi a tutte le persone nella nostra casa a tutto il palazzo a tutta la città a tutta la nazione a tutto il pianeta alle persone fisiche alle persone invisibili a chi c'è stato prima di noi e chi ci sarà dopo alle guide ai maestri agli angeli al divino stesso alle persone che ci accompagnano virtualmente e a quelle che ci accompagnano fisicamente tutto è uno e sentiamo questa connessione vibrare nella vita la vita è presente e noi la percepiamo perché tutto è uno e oggi io sono connessa con tutta la vita ok come è andata? fatemelo sapere nei commenti queste carte potete usarle così io mi sono lasciata ispirare però voi potete fare la vostra versione e le useremo il lunedì mattina ne troverete una sulla pagina facebook delle leggi della magia e non so aspetti i vostri commenti è stato bello molto rilassante spero che ti sia piaciuto in questo caso regalaci un like se non sei iscritto al canale youtube delle leggi della magia fallo subito e attiva pure la campanella e ci vediamo in un prossimo video ciao